Salve e benvenuti sul canale dell'alchimista. Io sono Dario e in questo momento principalmente intaglio cose nel legno, poi le carico nell'internet. Stavolta voglio andare a realizzare un cucchiaio un po' più semplice dall'ultimo che ho fatto, quello con le foglie d'edero. Se non l'avete visto vi lascio il link qui sopra. Comunque voglio fare un cucchiaio appunto un po' più semplice con le decorazioni solo nella parte alta del manico. Per il resto non sarà nulla di particolare. Spero che nonostante la semplicità sia di ispirazione, anche perché in seguito ne vorrò fare uno ancora più semplice, magari per dare spunto a chi si vuole simentare per la prima volta nell'intaglio di un cucchiaio, per un utilizzo anche da battaglia, non solo di esposizione. Prima di cominciare però volevo farvi vedere questo. Sapete che cos'è? È la percentuale di iscritti al canale che guardano i miei video. Ciò significa che il 77% di voi non è iscritto al canale, quindi per che sera se vi va, iscrivetevi e mettete like. Grazie mille per il supporto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.